In questo corso tratteremo tutto 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 ciò che riguarda il tema dei grid bot. Infatti imparerai a utilizzare i grid bot da zero a pro. Ti mostrerò tutto ciò che c'è da sapere, ti mostrerò alcune strategie, quindi tieniti forte perché stai per immergerti in un viaggio dove scoprirai come utilizzare i grid bot, in quale situazioni di mercato, cosa fare ma anche cosa non fare, quindi veramente tutto dalla A alla Z per iniziare a utilizzare i grid bot a tuo vantaggio. Partiamo subito con una breve introduzione di che cosa sono i grid bot, come funzionano e a che cosa servono. Beh, a che cosa servono è abbastanza semplice da comprendere perché i grid bot servono prima di tutto a far che cosa? Ad automatizzare la nostra operatività sul mercato. Partiamo con un presupposto, un presupposto molto semplice ma che tante volte viene lasciato un po' da parte, tante volte è dato per scontato dico io. Il concetto è questo, i mercati tendenzialmente oscillano e oscillare per un mercato è vitale. Perché è vitale? Perché è proprio l'oscillazione che ci dà la possibilità di acquistare e rivendere. Se non ci fosse oscillazione, quindi se non ci fosse la volatilità in un mercato, beh, non ci sarebbero opportunità di guadagno. Cioè tu immagina un mercato che si muova in questo modo, insomma, cosa faccio? Compro, vendo, come mi muovo? Cosa faccio? Non c'è assolutamente nessuna via per poter guadagnare. Quindi ciò che vogliamo prima di tutto è che i mercati siano volatili. Perché se i mercati sono volatili, allora io ho la possibilità di speculare sul prezzo, comprando magari qui e vendendo magari qui. Questa è una delle cose più importanti e basilari da comprendere. Passiamo poi al secondo concetto chiave. Oltre alla volatilità, che cosa vogliamo noi? Vogliamo anche capire come posizionarci sul mercato. Ora, il grande errore che si fa è, ok, ho compreso che c'è la volatilità, la maggior parte di persone cerca di comprare quello che si chiama il bottom e vendere quello che viene in gergo chiamato il top. Ma questa cosa qui è impossibile da fare. Noi sui mercati non sapremo mai e poi mai dove si trova il bottom e dove si trova il top. Possiamo fare analisi, possiamo provare ad intuirlo, ma non riusciremo mai, a meno che non abbiamo una botta di fortuna, a colpire il bottom e vendere il top. Compreso questo, allora possiamo andare a lavorare sull'unica certezza che abbiamo sui mercati, che è quella che abbiamo detto all'inizio, cioè che i mercati sono volatili. Quindi oscillano e oscillando io posso andare ad aggredire il mercato per fare che cosa? Per fare profitti. Quindi partiamo col concetto del grid trading. Per comprendere bene il grid trading bisogna prima comprendere come funziona sostanzialmente il mercato. Prendiamo per esempio bitcoin. Ora abbiamo bitcoin, ipotizziamo per semplicità di calcolo che bitcoin sia scambiato attualmente a 1000 dollari, quindi un bitcoin uguale 1000 dollari e facciamo un pochino di trading manuale se vogliamo. Partiamo qua, abbiamo detto bitcoin vale 1000 dollari, io faccio le mie analisi, mi aspetto che bitcoin possa raggiungere i 2000 dollari. Quindi cosa faccio? Compro, compro un bitcoin in questo punto. Adesso cosa può succedere? Succede che bitcoin, abbiamo detto il mercato oscilla, quindi magari inizia a salire e io dico che figo sto guadagnando. Poi inizia a scendere, 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 cavolo sto andando in perdita. Come facciamo? Poi magari ritorna un po' su, poi va ancora un po' giù, poi torna un po' su, poi torna qua, poi va quasi 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 a colpire il nostro 2000, arriva a 1999 e poi inizia il nuovo a scendere, poi fa un po' così, poi torna ancora giù e insomma si muovono, oscilla. Ora, io sono entrato qui, mi sono messo come target i 2000, finché non mi colpisce i 2000 vedrò il saldo del mio portafoglio che aumenta e diminuisce ma non mi realizza nessun incasso, quindi non mi va a chiudere nessuna operazione. Ricordiamoci che finché io non vendo posizioni non incasso profitto. Quindi i miei 1000 dollari sono lì che oscillano, a volte valgono 1500, a volte valgono 500, a volte valgono 200, a volte tornano a 1000, a volte si avvicinano, arrivano a quasi 2000, 1999 e poi ritornano di nuovo a 200 e così via. Ma in questo momento, qua magari sono passati giorni, mesi, io non ho incassato alcun profitto e mi sono semplicemente esposto sul mercato con il mio holding si dice, quindi con quello che ho comprato e che sto aspettando di vendere. A questo punto, compreso questo, andiamo a vedere come funziona il grid trading e come grazie al grid trading questa cosa qui può essere ottimizzata, può essere migliorata. Prendiamo lo stesso identico esempio, ma questa volta con il grid trading. Quindi di nuovo adesso vado a disegnarmi i miei target, vado a disegnarmi i 2k, quindi 2000 dollari, vado a disegnarmi i miei target, quindi il mio prezzo di ingresso, ma questa volta dico, allora io so solo una cosa sul mercato, so che è volatile, quindi che oscilla. Quindi se io comprasse adesso so per certo, 99% di chance, che il mercato oscillerà e 1% di chance che andrà dritto a colpirmi i 2k. Ok? Quindi se io so a priori che oscillerà, se andasse a crearmi più ordini all'interno di questo range, cioè più ordini che mi permettano per esempio di vendere in questo punto, per poi ricomprare in questo punto, per poi rivendere in questo punto, ricomprare e rivendere, e quindi fare in ognuna di queste parti dei profitti in termini percentuali, quindi dei guadagni effettivamente, perché ho comprato o rivenduto, comprato o rivenduto, no? Convieni con me che se io adesso prendessi da un lato, facciamo così, stessa situazione, ma qua parto con un k e aspetto di arrivare ai 2k. Quindi il mercato arriva qua, facciamo finta a 1.500, poi torna a 1.000, poi torna a 1.500, poi torna a 1.000. È un esempio, eh? Solo per una questione di calcoli più semplici lo sto facendo così. Io qui oscillo tra un k a 1.500 e un k a 1.500, ma non arrivo ai 2k, quindi finché non arrivo ai 2k non prendo profitto. Di qua invece che cosa faccio? Un k a 1.500 e chiudo vendo, quindi qua incasso un profitto di 500 dollari. Dopodiché aspetto, il prezzo torna giù, ricompro un k, dopodiché torna su, rivendo e faccio un altro profitto di altri 500 dollari. E quindi non già messi da parte 1.000, poi scende giù, prendo di nuovo un k, poi torna su 1.500, di nuovo 500 dollari. E sono già un profitto di 1.500, mentre qua di realizzato non ho nulla, perché ancora non ho chiuso nessuna posizione, non ho venduto. Di qua invece ho un realizzato già di 1.500 dollari, quindi ho già fatto una buona percentuale rispetto al mio capitale iniziale che era di 1.000 dollari. Magari con un altro giro di nuovo arrivo a 2k, quindi senza aver colpito il mio target di 2k che avrei guadagnato 1.000 dollari, in questo caso, qui sono già con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimenti arrivato a più i miei 1.000, più 2k. Quindi oltre al mio k ho altri 2k in portafoglio. Ed è questa la potenzialità che poi viene portata all'interno dei grid. Quindi adesso andiamo a capire come funzionano i grid, perché ok, io posso fare manualmente questa operazione qua, ma significa stare sul mercato. E stare sul mercato è noioso e più stiamo sul mercato, più aumenta il rischio che ci facciamo prendere dall'ansia. Perché magari vediamo che arriva qua e dico no vabbè non vendo, andrà ancora su, e invece scende. Poi arriva qua e dico no vabbè non compro, andrà ancora più giù, e invece sale. Tutta questa roba qui viene eliminata totalmente andando ad implementare appunto i trading bot, in particolare quelli a griglia. Come funziona i trading bot a griglia? Allora utilizzeremo diversi colori così riusciamo a inquadrare bene il tutto. Ipotizziamo la stessa cosa di prima, però questa volta facciamo finta che ci troviamo a 1,5k, quindi a 1500 dollari. Io entro qua e mi compro il mio BTC, però impostando che cosa? Una griglia. Questa qui è il prezzo, la linea di entrata, di ingresso. Ho un target a 2k e se vogliamo uno stop loss a 1k, cioè io credo che Bitcoin in questo momento si muoverà, oscillerà all'interno di questo range. A volte raggiungere 2k, a volte non li raggiungerà, a volte raggiungerà 1k, a volte non li raggiungerà. Però oscillerà all'interno di questo range. Compreso questo, che cosa succede? Succede che io andrò a crearmi una griglia per ottimizzare al massimo quella che è la mia operatività. In particolare utilizzando che cosa? L'unica certezza che ho sul mercato, cioè che oscilla, quindi la volatilità. Io sono entrato qui, quindi aprirò una griglia che ha come range 1k, 2k. Questo è il range della griglia. Ora, gli dico per esempio di farmi un ordine ogni 100 dollari di calo barra salita. Quindi io piazzerò una griglia verde perché è in acquisto rispetto al mio punto d'ingresso che è attuale questo. Quindi qua siamo a 1,4k, quindi 1.400 dollari. Poi me ne mette una a 1.300, poi me ne mette una a 1.200, poi me ne mette una a 1.1001 e poi me ne mette una a 1.000. Questi sono ordini by attualmente. Dopodiché facciamo lo stesso ma al contrario. Quindi abbiamo 1.600, 1.700, 1.800, 1.900 e 2k. Questi sono ordini sell attualmente. E poi ti spiego il perché dico attualmente. Ora prendiamo il prezzo e facciamo il prezzo che è parteno. Inizia a muoversi, bitcoin inizia a muoversi. Quindi qui inizia a salire, salire, salire. Tac! Mi colpisce un ordine, mi colpisce un sell. Quindi vendo una quota dei bitcoin che ho acquistato. A questo punto cosa fa? Inizia a scendere un pochino, poi torna ancora su. Tac! Mi vende un'altra quota. Poi inizia a scendere. Ora, questa è una cosa molto importante ed è il motivo per cui è estremamente interessante utilizzare i grid. Quando ci si muove tra una griglia e l'altra, in questo caso abbiamo visto, abbiamo colpito il primo livello di sell e il prezzo centrale, questo qua, diventerà un ordine buy. Quindi si trasforma. Diventa un ordine buy questo. Dopodiché ha oscillato un pochino, non ha colpito il nuovo buy, quindi è andato su, ha colpito un altro sell. Cosa succederà? Succederà che quest'ordine che prima era sell, a 1600, diventerà un nuovo ordine d'accumulo. Quindi diventerà un nuovo ordine buy. Eccolo qua. Quindi se il prezzo a questo punto tornasse giù qui, andrebbe a ricomprarmi una quota di bitcoin. Intanto qui mi ha fatto un profitto. Qui mi ha fatto un altro profitto. Poi qua magari torna giù, tocca, compra di nuovo, quindi questo qua diventa un nuovo acquisto. Poi inizia a scendere nuovamente, ricolpisce magari questo livello qua. Quindi fa un altro acquisto, un altro buy. Cosa succede però? Che ha colpito il buy successivo. Quindi questo qui, che era il buy di prima, si trasformerà in che cosa? Si trasformerà nel nostro sell. Quindi da buy che era prima, ora diventa sell di nuovo. Quindi poi ipotizziamo, continua a scendere, colpisce un altro buy. Quindi cosa sta succedendo? Che in questo momento lui sta andando ad accumularmi bitcoin. In attesa poi di rivenderli a un target più alto. Questo qua si trasforma anche lui, diventa nuovamente un altro sell. Poi ipotizziamo che fa così e poi inizia a tornare su. Inizia a tornare su, inizia a tornare su. Tac. E mi chiude un altro sell. Quindi qua vado a fare un altro profitto. Poi va ancora su. Tac. Mi colpisce un altro sell. Quindi faccio un altro profitto. E di nuovo si trasforma questo qua in un buy. Poi ipotizziamo che faccia di nuovo così, ricolpisca questo. Quindi ricompra. Poi ritorna su, rivende. Poi ritorna su, rivende. Poi ritorna su, vende. Ritorna su, vende. E cosa è successo qua? Che tutti questi qui sono diventati nel frattempo tutti ordini buy, buy, buy. Qui tutti ordini di acquisto. Perché man mano che li colpisce diventa ordini di acquisto. Ora ipotizziamo che da qua, noi abbiamo già fatto comunque uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto profitti. Quindi ipotizziamo che da qua il prezzo storni pesantemente, quindi inizia a crollare, faccia boom, e arrivi qua. Cosa succede? Che tutti gli ordini precedenti, lui ha iniziato a comprarmi, 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 quindi è andato di nuovo in accumulo. E questi qua si ritrasformano tutti in sell. Quindi di nuovo tutti gli ordini sell diventano. Compreso questo e compreso questo qua, se ovviamente il prezzo fa una roba del genere. Quindi inizia ad andare giù, poi magari fa un po' così, poi pam, di nuovo giù. E quindi di nuovo. Questi si trasformano tutti in ordini sell. In questo caso cos'è successo? Che abbiamo accumulato tanti bitcoin. Abbiamo accumulato e quindi ora se il prezzo inizierà a fare questo, io andrò a di nuovo fare profitto, profitto, profitto e così via. Si ritrasformano in buy. E quindi tutto questo per mostrarti dinamicamente come funziona una griglia. Cioè io avrei dovuto, se avessi fatto questa impostazione, avessi usato questa impostazione in modo manuale, andare manualmente a guardare ogni volta vendi, compra, ogni volta che fa l'acquisto andare a ripiazzare un'altra griglia. No, diventa una pazzia. Grazie ai grid io posso rendere tutto questo automatico. La chiave qui è automatizzare i processi tramite che cosa? Chiaramente una strategia che noi andiamo a creare a monte. E questo è il grid trading spiegato in modo più semplice possibile. Come visto la chiave qui è la gestione attiva delle nostre posizioni. Non è solo compro e poi vendo lì. No, è un compro e mi muovo a seconda di come si muove il mercato. E da questo esempio si possono andare a tirar fuori due aspetti chiave importantissimi del grid trading. E il primo aspetto che poi sono uno dei vantaggi che va a generare utilizzare un grid trading ma che vedremo tra poco nella pratica. Il primo vantaggio è che mi permette di abbassare il mio prezzo medio di ingresso a mercato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io adesso comprassi 1k qua, anzi 1.5k, quindi un bitcoin a questo livello qua. E aspettassi arrivare a 2k, man mano che scendo non vado a giovare del mercato, cioè non vado ad acquistare di più, non vado a posizionarmi di più. Una grande cosa da fare teoricamente sarebbe quella di acquistare man mano che i prezzi scendono e rivendere man mano che i prezzi salgono. Ed è quello che il grid fa per noi. A patto che gli diamo chiaramente una strategia e tra poco ti mostrerò anche delle strategie. Quindi resta con me fino alla fine perché siamo partiti con un esempio pratico di come funziona il grid ed è essenziale comprendere questi funzionamenti qui perché altrimenti rischiamo di non poi riuscire ad applicare sul mercato o fare errori grossolani perché non abbiamo capito il cuore pulsante di queste strategie qua, quindi del funzionamento del grid e dall'altro lato siamo riusciti a far che cosa? Ad acquistare via via ad un prezzo sempre più basso. Quindi abbiamo abbassato il prezzo medio di carico, il prezzo medio di ingresso a mercato. Viceversa siamo riusciti a vendere sfruttando l'onda rialzista. Cioè io non ho venduto immediatamente quando ho arrivato qui e basta ho venduto tutto chiuso ciao. No, ho venduto a più step a seconda di quello ancora una volta che è la mia strategia. Vediamo a questo punto i rischi perché diventa molto semplice qua su questo grafico capire e comprendere quali possono essere i rischi. Il primo grande rischio, quando si opera con il grid, ed è forse l'unico vero importante rischio, è quello di vedere il prezzo che scende sotto il livello di griglia che ci siamo dati. Quindi ipotizziamo che magari in questo punto non abbia fatto questo movimento qui, ma che abbia invece fatto così. Quindi ha comprato le ultime griglie che sono diventate di nuovo griglie sell e quindi noi attualmente in quest'area ci troviamo, facciamo finta a 900 dollari, ci troviamo in perdita rispetto a quello che è il nostro prezzo medio di carico rispetto al punto di partenza nuovamente e al netto di tutti i profitti che abbiamo generato qui e lì durante la volatilità. Qui ci troviamo con delle coin, il grande rischio è quello di trovarsi con delle coin, in questo caso dei bitcoin, che abbiamo acquistato e che però è andato sotto il prezzo rispetto a quella che è la mia griglia perché ora è scambiato a 900, poi magari 800 e così via. E quindi finché non torna su, non mi rientra nella griglia, quindi mi ritorna un K e inizia a vendere, io di fatto sono fermo, sono immobilizzato sul mercato, non posso più agire. Questo è il primo grande errore. Per ovviare a questo errore ci sono due cose importanti da fare. La prima è scegliere delle coin che sul lungo termine è più probabile che tendano a performare, quindi se io devo far trading non vado per forza, posso farlo, ripeto dipende dalle strategie e tra poco le vediamo insieme, ma se voglio muovermi in modo più tranquillo, più safe facendo grid lo vado a fare su che cosa? Lo vado a fare su delle coin che abbiano un potenziale di crescita effettivamente. Esempio vado su un bitcoin, vado su un ethereum, vado su un solana, vado su delle coin che tendenzialmente hanno una storicità e hanno un peso, un valore che mi permettono di dire ok caso mai andassi off grid, si dice quindi fuori dalla griglia, cioè mi cadesse il prezzo sotto quella che è la griglia che mi sono impostato, io comunque, comunque ho la possibilità di attendere che il prezzo torni su. Se vado a prendere l'ultima shitcoin uscita, lì il discorso cambia, perché magari parte, il prezzo non fa così ma ti fa il pump iniziale e poi va giù sotto zero e qui cosa fai? Qui ti ritrovi ad holdare, aspettare che torni su ma magari questa coin passerà poi dopo aver fatto il pump e essere crollata a fare questo e non tornerà mai più al livello magari tuo medio che era qua. Quindi ti trovi con una coin in portafoglio che fa schifo e che molto probabilmente non recupererà mai il suo range che avevi impostato nella tua griglia. Quindi questo è il grande rischio di questa roba qui ed è il rischio collegato anche a quello che si chiama l'impermanent loss, cioè ti ritrovi con una perdita non incassata perché non hai venduto ancora, perché ti trovi sotto griglia appunto, quindi in quell'area là. Come si ovvia questo problema? Utilizzando chiaramente una strategia. Una strategia potrebbe per esempio di essere quella di piazzarti un ordine spot a parte, magari qui a 500, in modo da andare, sì hai il tuo holding, vai a mediarlo, quando poi il prezzo scende, se tu hai 900 e 500 magari il tuo prezzo medio arriva sui 600, quando supera arriva magari 7, 800 vai a vendere qualcosina e quindi vai a tamponare un po' la cosa. Però questo è uno dei tanti modi che si possono utilizzare per andare a ovviare questo problema ed è il grande svantaggio dei grid bot è proprio questo, quindi il fatto che ti possano uscire fuori griglia. Dall'altro lato tu sai che comunque non stai perdendo finché non incassi quella perdita, cioè bendi quella coin che hai accumulato, perché qua parliamo di grid spot. Andiamo a questo punto a vedere qualche strategia, qualche cosa che possiamo implementare proprio con i nostri grid bot. Prima di procedere con delle strategie pratiche quindi andiamo a sottolineare che cosa dobbiamo guardare quando andiamo a scegliere una coin per poter operare. Quindi il primo step è scegliere la coin su cui operare. Quale coin scegliere quindi per operare? Allora dobbiamo guardare principalmente che cosa? Primo punto la volatilità, cioè deve essere una coin che oscilla, cioè non deve essere una coin piatta, ferma, morta, deve essere una coin che ha una buona oscillazione, perché l'oscillazione, la volatilità si traduce per noi in denaro. Due, dobbiamo scegliere una coin che possibilmente sia solida. Solida perché? Perché come abbiamo visto se ci andasse il prezzo fuori griglia noi vogliamo un qualcosa che nel tempo è molto più probabile che tenda ad apprezzarsi, piuttosto che crollare drasticamente e nessuno la rivedrà più. Questi sono i due aspetti principali da tenere in considerazione quando si va a scegliere la coin su cui operare. Ovviamente dobbiamo scegliere tutto in base a che cosa? Di nuovo in base alla nostra strategia. Quindi vogliamo applicare una strategia long term o una strategia short term? Vogliamo applicare uno scalping magari? Vogliamo colpire un range? Vogliamo colpire una coin che sta crollando? O vogliamo colpire una coin che sta pompando? Quindi a seconda di come ci vogliamo muovere, chiaramente a fronte di una strategia, le vediamo tra poco, dovrò andare a analizzare questi due aspetti chiave e imprescindibili. A questo punto vediamo per che cosa serve, quali sono i vantaggi e quali sono i tipi di griglie che si possono lanciare. Ci sono diverse tipologie, a seconda, ripeto, di quella che è la strategia di ognuno, si può scegliere una piuttosto che un'altra. La prima tipologia di griglia che si può scegliere è una griglia di acquisto o di accumulo se vogliamo. Cioè io posso triggerare la mia griglia in modo che vada ad accumulare bitcoin, piuttosto che qualsiasi coin io abbia in mente, con un unico obiettivo. L'obiettivo è quello di ridurre il prezzo medio di carico. Cioè nell'esempio che abbiamo fatto prima, quello che io voglio fare è, ok, ho individuato un token, per esempio bitcoin, si sta muovendo a 60k. Io penso che, perché ho visto delle notizie particolari o delle cose particolari, che da 60k ora venga, o perché magari c'è una resistenza forte, quindi ho fatto un minimo di analisi tecnica, vedo che da 60k è probabile che questo token, che è bitcoin, crolli e vada a colpire i 50k. Ok, che cosa voglio fare io? Come faccio a trarre profitto da questo movimento? Beh, andando ad accumulare bitcoin durante il calo, quindi facendo una sorta di buy the dip. Allora io posso impostare la mia griglia in modo da andare ad accumulare man mano che scende il prezzo di bitcoin, quindi mediare a ribasso il prezzo d'acquisto, in modo che una volta toccati i 50 e ripartito il prezzo, vada poi a fare profitti e a scalare. Questo è un tipo di griglia, quindi una griglia in acquisto. Vediamo a questo punto l'altro aspetto, no? L'opposto. C'è una griglia in vendita. Qual è l'obiettivo di questa griglia? Chiaramente vendere al prezzo più alto possibile. Ancora una volta, io per esempio entro a 60k, compro bitcoin qua e dico secondo me bitcoin arriverà a 70k. Ok, ora io posso comprare e aspettare che arrivi a 70k e vendere, oppure creare una vendita, una griglia di sell che vada a colpirmi tutti i prezzi fino a 70k e magari, per non precludermi nulla, farla un po' più ampia, quindi magari a metterla a 75k. In questo caso cosa succede? Ancora una volta, io entro a mercato, il prezzo inizia a salire, inizio a vendere, 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 fare profitti, se poi ci sono oscillazioni io vado a colpire, guadagnare da queste oscillazioni qua, poi quando il prezzo arriva al mio target, fantastico, chiudo la griglia e sono andato a guadagnare vendendo a scaglioni. Quindi questo tipo di strategia, quello di acquisto e vendita, lo si può implementare sia su token già grossi, che hanno per noi un potenziale, sia su token che sono stati appena listati, sono stati lanciati, o airdrop addirittura, cioè io ho ricevuto dei token in airdrop, voglio venderli, sappiamo che quando vengono aperti magari gli airdrop su Binance o su qualsiasi altro exchange, io credo che questo token possa salire e andare to the moon, quindi magari ho ricevuto il token, il prezzo stimato del lancio dell'airdrop è di un dollaro, io so che tendenzialmente quando viene lanciato un airdrop questo token può arrivare a 2, 3 dollari, 4 dollari, mi creo una griglia tra il dollaro e i 4 dollari in modo da ottimizzare e guadagnare il più possibile all'interno di questa griglia, proprio dalla volatilità del lancio del token. Oppure al contrario viene lanciato, io so che viene lanciato a un dollaro, allora che cosa so? Che ci sarà la spinta ma ci saranno anche dei sell, quindi magari posso cercare di accumulare a un prezzo minore andando a mettere un target più basso a 0,5, 0,6 e poi a rialzo di nuovo 4 dollari. Così se parte io comunque sono entrato a mercato, se scende andrò ad approfittare del calo per acquistare e poi godermi la salita o viceversa inizio a salire e scendere e comunque vado a trarre beneficio. Queste sono le due tipologie principali di grid bot, quello in acquisto con l'obiettivo di ridurre il prezzo medio d'acquisto per poi giovare del massimo potenziale nel lancio, quindi nella parte di salita del mercato oppure vendere, quindi per giovare, per guadagnare il massimo dal pump per poi riaccumulare in fase successiva livelli più bassi. Queste sono le due grandi tipologie e poi a seconda di come vengono mixate, con quale tipo di token, in quale condizione di mercato possono avere delle sfaccettature più o meno marcate. L'ultima, terza categoria ovviamente è quella che va a colpire che cosa? Un mercato neutro. Ricordiamoci che i mercati per la maggior parte del tempo sono in range, sono in sideways, cioè si muovono lateralmente, dove ci sono accumulo, distribuzioni, accumuli, distribuzioni, cioè per fare un esempio pratico, il mercato fa un pump e poi lateralizza. Questo è un momento incredibilmente interessante per lanciare una griglia. Poi magari scende e lateralizza, poi magari sale e lateralizza, poi magari scende un po', lateralizza, poi ritorna su, lateralizza. Come vedi ci sono tantissime situazioni di lateralità che possono essere estremamente utili per andare ad operare. Ora, come funziona in questo caso? In questo caso io creo una griglia neutra, una griglia che mi va a colpire un range, quello della lateralizzazione, banalissimo, posso ammettere supporto, resistenza, e man mano che il prezzo oscille in quest'area, io faccio ancora una volta profitti. Quindi qui lo scopo non è vendere necessariamente un token che ho già, o comunque creare una griglia di vendita, né tantomeno andare a ridurre per forza il prezzo d'acquisto, anche se, anche in questo caso io comunque andrò ad ottenere questo effetto, perché l'effetto della griglia in sé, acquistare man mano che il prezzo scende, quindi ridurre per forza di cose il prezzo medio, vendere man mano che il prezzo sale, quindi andare di nuovo ad ottimizzare il prezzo di vendita. Funziona così ma perché è la struttura stessa della griglia, per come abbiamo visto, che è strutturata in questo modo. Quindi anche in questo caso avrò questi due benefici, ovviamente. Però qui il gioco è diverso, quindi è guadagnare il massimo dalla fase di lateralità. Ora veniamo ad una domanda frequente che mi viene fatta quando parlo di grid trading. E la domanda è, uno, con quanto capitale, quindi con quanto capitale dovrei fare grid trading, due, quante griglie devo mettere? Cioè, di nuovo ipotizzando un K, due K, io qua dentro quante griglie ci devo mettere? Cioè, ce ne devo mettere 10, ce ne devo mettere 20, ce ne devo mettere 50, ce ne devo mettere 100, dipende da diversi fattori. Il fattore chiave, chiaramente, da considerare è la volatilità. Se io ho un asset che tendenzialmente all'interno di un giorno, se io voglio operare in un grafico giornaliero, o all'interno di un'ora, se io voglio operare di nuovo in un grafico orario, quindi vado a vedere la candela media di quanto oscilla, cioè qual è l'oscillazione media di quel particolare token, di quella particolare coin. Quindi, esempio, io prendo Bitcoin, vado a scegliermi un grafico daily, giornaliero, perché voglio lavorare su un time frame più ampio, quindi tenere la mia strategia attiva più tempo. Bene, vedrò che tendenzialmente la candela media, da shadow a shadow, quindi dal minimo al massimo raggiunto, qui non solo il corpo della candela, teniamo conto anche delle shadow, ha un'oscillazione media di, facciamo finta, 800 dollari. Quindi vuol dire che giornalmente Bitcoin almeno si muove di 800 dollari. Allora, io posso creare una griglia, per esempio, di 700 dollari di movimento. Quindi tra 1K e 2K facciamo finta che io vado a mettere una griglia, quindi una griglia qua, che va a colpirmi più o meno questa oscillazione qui, o magari due griglie all'interno di questo spazio, se voglio lavorare giornalmente. Se voglio lavorare ogni ora, vado a vedermi la candela, vedo che ha un'oscillazione magari di 50 dollari. Allora cosa faccio? Vado di nuovo qua a metterne magari 10, 15, 20, dipende poi dal calcolo che vado a fare. Devo cercare di farci stare ogni griglia più o meno ogni 50 dollari, oppure ogni griglia ogni 700 dollari. Ancora una volta dipende dalla propria strategia, ma tra poco ti mostro anche questo nel dettaglio. Prima volevo darti un'idea di quelle che sono le domande frequenti che vengono fatte, e prima di andare nella pratica a creare delle griglie, andiamo a capire effettivamente tutto quello che ruota intorno a questo sistema, a questo mondo, che è quello appunto del grid trading. Tendenzialmente ti posso dare già qualche parametro, in modo da avere un'idea, basato sulla mia esperienza, basato su quello che sto facendo con i grid bot, io opero, uso grid bot ormai da una vita, li ho integrati all'interno della mia operatività, proprio perché voglio rendere il tutto più automatizzato possibile, quindi li lancio, li chiudo, li apro, ti continuo, perché anche qui una cosa importante, non esiste il grid bot che dura a vita. Questa roba qui tolite la dalla testa. A meno che non hai risorse infinite che puoi creare un bot enorme, con delle griglie enormi, non esiste sta roba qua. Tendenzialmente ci sono bot che vanno adattati ad ogni situazione di mercato, quindi quando il mercato sta scendendo crea una griglia per farmi un accumulo, quando il mercato sta salendo crea una griglia per vendere al prezzo più alto possibile, quando il mercato è laterale crea una griglia neutra, quindi a seconda di come si sta configurando il mercato uso una griglia piuttosto che un'altra. Molto molto importante questa precisazione qua che è da fare. Ora, quale deve essere la percentuale di profitto per ogni griglia? La percentuale di profitto di ogni griglia può variare, chiaramente come abbiamo detto dal numero di griglie, e ti ho dato un'idea di massima di come andare a calcolare quante griglie inserire all'interno della tua strategia, però possiamo tenerci in linea di massima su qualche range che più o meno colpisce tutto. Token altamente capitalizzati, bitcoin, ethereum, queste robe qui, si può stare su una griglia tra lo 0,2% e uno 0,3% di profitto. Quindi la griglia mi va a fare uno 0,2% o 0,3% di profitto. Tra poco ti mostro come viene calcolato, perché quando tu vai a creare la tua griglia, ti dirà anche quanto sarà il profitto medio per ogni griglia. Cioè, io creo questa griglia qua, per ogni ordine ci sarà un profitto medio, che è questo qui. Su un token altamente capitalizzato, più o meno si può stare tra uno 0,2 e 0,3, a volte io sto sullo 0,16 se voglio farlo più spinto, però tendenzialmente questo è il range che utilizzo. Per token invece ad alta volatilità, ecco una cap, una capitalizzazione di mercato più bassa, si può stare tra uno 0,3 e uno 0,4%. Perché? Perché tendenzialmente sono quei token che sparano tanto, quindi fanno dei grossi movimenti in termini percentuali, o perché magari di qua abbiamo un bitcoin che vale 70k, di qua magari abbiamo un token che vale 0,0001 centesimo. E quindi è facile da 0,001 arrivare a 0,002, piuttosto che per bitcoin fare da 70k a 140k. Consideriamo questo, ecco perché è importante vedere anche la capitalizzazione della coin su cui vogliamo operare, e andare a selezionare, modulare l'intervallo, chiaramente il profitto per ogni griglia, in base a questi valori qua. Direi di aver affrontato tutte le parti principali teoriche del grid trading, adesso andiamo a sporcarci un po' le mani e vediamolo in azione. Allora qua ci troviamo su The Gate. Perché sto scegliendo The Gate per operare? Per due aspetti principali. Il primo è che è in DeFi, quindi è in finanza decentralizzata. Cosa significa? Significa che io possiedo i miei fondi. Infatti io mi collego a The Gate con il mio ledger, e i fondi sono di mia proprietà. In modo totalmente anonimo, io posso operare sul mercato, tranquillamente come farei su un checks, però in DeFi. Quando io opero su un checks, sto dando le mie cripto, i miei soldi, ad una azienda, che ne dispone chiaramente, che può fallire, e può avere tutta una serie di conseguenze, e io posso perdere i miei fondi. Nel momento in cui invece opero in DeFi, sono io che controllo i miei fondi. Occhio però, ci sono dei protocolli in DeFi che funzionano bene, e dei protocolli in DeFi che invece funzionano male. Quindi devo essere io in grado di discernere quale funziona bene e quale funziona male. Il primo aspetto che devo considerare è la sicurezza di quel DEX, di quell'exchange decentralizzato. Bene, nel caso di The Gate, tu hai una sicurezza massima, perché i fondi sono sempre in tuo possesso. E sì, è vero che noi andiamo a depositarli, tra virgolette, su The Gate, ma in realtà non li stiamo depositando su The Gate, stiamo semplicemente andando da blockchain ad allocarli per operare, per utilizzare The Gate come strumento per operare. Se The Gate fallisse, se The Gate chiudesse, qualsiasi cosa venisse censurato in Italia, in Messico, dove vogliamo, dipende dove ci troviamo, quindi se io non avessi più la possibilità di accedere a The Gate e fare il ritirafondi, quindi non ho più l'accesso fisico ai miei fondi, perché non ho più l'accesso a The Gate, non c'è nessun problema, perché esiste quello che si chiama l'Exodus Mod. Magari qua sotto nella descrizione ti lasciamo un documento che ti mostra esattamente come funziona, salvatelo così nel caso tu lo potrai utilizzare. Cosa fa l'Exodus Mod? Ti permette semplicemente di recuperare i tuoi fondi direttamente da blockchain, perché ricordo The Gate opera in totale trasparenza su blockchain e quindi in qualsiasi momento tramite smart contract tu puoi accedere ai tuoi fondi anche se The Gate non fosse più raggiungibile, ma i tuoi fondi sono controllati da smart contract e tu puoi utilizzare questi smart contract per semplicemente riprendere e riaccedere ai tuoi fondi. Quindi tu fai trading su The Gate sempre con i tuoi fondi in possesso. Questa è una cosa importantissima che è da sottolineare. Un'altra cosa importante da sottolineare sul perché far trading con The Gate è perché uno è estremamente semplice da utilizzare, ha come vedi un'interfaccia grafica identica a tutti gli effetti, a quella che può essere un'esperienza utente su un checks qualsiasi, Binance e così via, qualsiasi. Due, ti dà la possibilità di operare in blockchain a commissioni bassissime. Grazie a una tecnologia che si chiama ZK Rollup, infatti tu puoi operare, io qua sono su rete ETH, però The Gate ci si può collegare con rete ETH, con rete Arbitrum, Optimism e così via. Ora la figata di The Gate è che io posso operare su rete TH, che è una rete solida comunque rispetto a tante altre reti, posso operare pagando delle fee misere bassissime. Perché? Perché c'è appunto lo ZK Rollup. Grazie a questa strategia The Gate va a mettere insieme come fosse all'interno di una scatola più operazioni, quindi più transazioni. E poi le esegue tutte insieme in blocco, quindi va a ridurre significativamente le percentuali di gas fee che deve pagare, di conseguenza noi pagheremo poche commissioni. Questo era giusto per avere uno specchietto del perché ho deciso di utilizzare The Gate per operare. Ti vado a mostrare adesso, per capire un attimo come funziona la griglia, un paio di griglie che ho lanciato. Ne ho lanciate alcune su dei token nuovi, appena lanciati, altre invece sul classico ETH, USDT. Ti mostro prima di tutto i THUSDT, i dettagli, così tu puoi vedere cosa vedrai. Ora questa griglia io l'ho lanciata con un parametro, eccolo qua, 2400-2600 dollari, questo è il range che mi sono dato per questa griglia, è durata tre giorni. Il profitto medio per griglia era 0,78-0,83, quindi abbastanza alto, ma perché volevo coprire una fascia di prezzo più alta, quindi fare meno ordini, ma più diluiti, questa era una strategia che avevo io, poi ognuno segue la propria. Lo storico, qua vediamo gli ordini eseguiti, come si è mossa, quindi è andata per esempio, ecco qua, questo qui è andata a fare il 25,10 acquistato, a 25,40, 25,52 dollari, e il 28 alle 23,03 è andata a vendere a 25,60, 25,72, facendomi 20 centesimi di profitto. Poi mi ha fatto, andiamo giù ancora, altri 20 centesimi, altri 20 centesimi, in media mi faceva 20 centesimi di profitto. Perché? Perché gli ho dato una griglia, come vedi qua, 249 dollari di investito, con una griglia ogni più o meno 20 dollari di movimento. Quindi più o meno, andando ad acquistare un 20, 25 dollari per ogni livello, andava a vendere con uno 0,2 di profitto medio. Cosa importante, le fee sono nulle, ci sono bassissime. Se io clicco per esempio qua, guarda qua, la commissione gas è 0 per l'acquisto. In questo caso poi ho venduto, commissione gas 0. Quindi questo è un vantaggio importantissimo di operare qui su the gate, il fatto che per adesso, essendo quelli delle griglie tutti ordini maker, quindi io vado a creare l'order book, di fatto, beh, vado a operare sostanzialmente senza pagare gas fee, quindi totalmente gratis. Rispetto a tutte le soluzioni invece checks, io qua dovrei dare un sacco di profitti all'exchange per operare, invece qua ci do gratis. Questo è per le griglie. Se vado invece a fare degli ordini spot, ovviamente pago delle fee, ma sono delle fee veramente ridicole, bassissime. Poi, ora ho degli ordini aperti, perché ho venduto tutto, perché adesso il prezzo di ETH è salito. Vediamo, è a 26, 23, quindi 2623 dollari. Il mio target massimo era 2006, quindi ho venduto tutti quelli che avevo, e ora sono in attesa di riacquistare con questa griglia. Quindi come vedi qua, vedi posso scendere fino a 2400, ci sono tutti gli ordini, 2580, 2560, 2540, e così via. E mi va a comprare via via sempre degli ETH. Il profitto totale di questa griglia, realizzato, è di 3,61 dollari, il profitto totale, compreso il floating, quindi il fluttuante, perché ho ancora un microholding di ETH, è di 4,15 dollari, quindi sono partito con 249 dollari, e ho guadagnato in 3 giorni, sono 3 giorni se non sbaglio più o meno, ho guadagnato in 3 giorni 4,15 dollari, un EPY totale del 152% di stimato annualizzato. Quindi questo è stato il bot. Vediamo graficamente cosa è successo, quindi come si mostra a livello grafico. Allora, eccolo qua. L'operatività è tutta in quest'area qui. Come ho creato il mio ordine? Il mio ordine ho semplicemente preso un grafico così, ho preso il grafico orario, sono andato a identificare le fasce di prezzo in cui ci stiamo muovendo, tolgo l'automatico così, si vede meglio, ingrandisco, ecco qua, e quindi poi sono andato semplicemente a scegliere un target più alto che questo qua, quindi 2.600, e un target più basso che è questo qua, basandomi sull'ultima shadow raggiunta, quindi questo, 2.400. All'interno ci ho messo X griglie, te le mostro. Eccole qua. Quindi ogni 20 dollari più o meno c'è una griglia. Ora sono tutte verdi perché, perché come ho detto sale, verde, 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 perché ha comprato, inizia a vendere, poi quando torna giù, se adesso inizierà a tornare giù, mi colpisce per esempio, questa griglia qua si trasforma in una griglia accumulato, quindi questo qua sopra, comparirà una griglia sell, poi se va a colpire ancora questo, riaccumule, questa qua diventa una griglia sell, e così via. Come vedi, oscillando in quest'area, ti tolgo, così si capisce meglio, oscillando in quest'area, queste freccioline qua che vedi, sono tutti stati buy, sell, buy, sell, buy, sell, che ha fatto lungo il percorso. Come vedi, tac, 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 ogni volta che si muoveva così il prezzo, lui andava a generarmi del profitto. E quindi qua io ho guadagnato profitti da questo movimento qua, da questa lateralità qua. Ora potrei chiudere la griglia e aprirne un'altra magari più ampia, oppure qua sotto ci fa vedere anche buy, sell, buy, sell e così via, oppure lasciare, aspettare, perché se credo che il prezzo possa tornare a questo livello, quindi riaprire la griglia, ripartirà poi tutto il processo. Come ho detto, ci sono tantissimi modi per andare a selezionare la griglia, la utilizzare. Uno dei modi potenziali che si possono utilizzare è semplicemente quello di individuare delle aree di supporto e resistenza. Magari è più chiaro vederlo su un daily, su un grafico daily. Te lo mostro qua. Ora, eccola qua. Questa è la situazione di griglia neutra. Cioè, come vedi qua, questo è il prezzo di ETH. ETH si è mosso all'interno di questo range. Io ho fatto una griglia più stretta perché volevo colpire questo movimento in particolare qua. Però volendo, io avrei potuto lanciare anche una griglia più ampia, mettendo 2008 come target superiore, quindi questo livello qui, e come target inferiore 2200. E tac 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 tutta la mia griglia, man mano che lui lateralizza, si muove all'interno di questo range, mi va a creare profitto. Ora, individuare una struttura neutra è relativamente semplice. Cioè, come puoi vedere qui, a me basta fare zoom out sul grafico, vedo già un paio di curve di questo tipo e capisco che questa qui probabilmente sarà un'area laterale. Poi anche qui, ad esempio abbiamo un'area laterale, poi abbiamo un'area laterale qui, poi abbiamo un'area laterale qui, quest'area qua, quest'area qua, quest'area qua, quest'area qua. Quindi come vedi, ce ne sono sempre di più. Anche qua abbiamo una lateralizzazione intorno al top, anche qua una piccola lateralizzazione intorno al top. Queste sono tutte aree neutrali dove il mercato si sta muovendo sideways che io posso utilizzare per andare a trarre il massimo del profitto proprio dalla volatilità in quelle aree. Perché ricordiamoci che quando il mercato va in queste aree qua, e questo è un concetto fondamentale da tenere in considerazione, cioè i mercati non salgono di continuo e basta e non scendono di continuo e in basta per un motivo semplice. Perché ci sono da un lato i buyer, da un lato i seller. C'è chi compra e c'è chi vende e ci si accorda sul prezzo. Bene, questa cosa qui è quella che succede in questo momento. Cioè io qua ho un accordo sul prezzo. Cioè si sta decidendo, si stanno consumando, stanno combattendo buyer e seller. Cioè tu immagini in queste aree ci sono le guerre per il prezzo. E in queste aree che si decide dove dovrà andare il mercato. E il mercato prenderà una direzione a seconda che vinca uno o l'altro questa battaglia. Quindi a seconda che ci sia una push forte da parte dei buyer che sono disposti a comprare anche a prezzi ridicolmente alti, dall'altra parte abbiamo invece una pressione dei seller nel caso in cui i buyer perdano fiducia in quell'asset e quindi i seller diventano aggressivi e iniziano a vendere, a scontare il più possibile pur di svendere quello che hanno incassato, quello che hanno in mano. Questa è l'area di massima volatilità. Cioè qua c'è proprio i cazzotti. Qua girano schiaffi di continuo. Pam 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 pam. Il mercato si muove, oscilla, si sta creando quell'impulso che poi sfocerà in un up o in un down. Quindi in quest'area il grid è fenomenale, è veramente potentissimo. Poi, ripeto, possiamo utilizzarlo anche in che modo? Possiamo utilizzarlo, ad esempio in questo caso, io ipotizzo che il mercato non continui a lateralizzare in questo range ma che ci sia una rottura. Quindi penso che possa raggiungere questo livello qua, per esempio, che è i 3.400-3.600. Allora, se questo è il mio sentire, chiaramente, di nuovo, basandomi su strategia, analisi, quindi ho capito dove ci troviamo nel mercato, vedo che c'è stata una rottura, magari, ecco, magari non entrerei con questo target qua, ma entrerei alla rottura di quest'area qui, quindi il 2008. Vediamo il prezzo magari che raggiunge il 2008, rimbalza, fa questo, allora dico, ok, potenzialmente da qui può arrivare a 3.400-3.600. tra poco ti mostro anche uno strumento che puoi utilizzare per fare questo tipo di analisi qua molto dettagliato, cioè per capire dove ci sono i punti chiave supporti resistenze e dove c'è il più della volatilità dei volumi. Detto ciò, io ipotizzo questo target qui, ipotizziamo che ETH abbia già fatto questo movimento sia qui, allora cosa faccio? Creo una griglia dove vado a colpire praticamente il SEL più che altro, cioè io vado a creare una griglia qua 2008, 3.600 facciamo e cosa succederà? Che qui la griglia essendo noi già nella parte più bassa di questa griglia andremo di fatto ad avere una sfilza di ordini SEL, quindi man mano che il prezzo si muoverà andrà a beccarci vari SEL e io avrò tratto il massimo del beneficio da questo pump. Questa qui quale griglia era? La seconda tipologia quella della griglia vendita, che abbiamo detto prima. Se invece da qua credo che il prezzo possa scendere tornando qui andrò a fare una griglia d'acquisto quindi di nuovo il punto di partenza è qua e qua tutti gli acquisti. Te lo mostro graficamente con un esempio pratico, io qua te l'ho mostrato così, però ti vado a far vedere qua come se volessi crearla adesso questa griglia, Noi ci troviamo in quest'area tanto una figata assurda di The Gate è che io vedo manualmente cosa sta succedendo. Ovviamente perché è una strategia griglia basta entrare su The Gate collegare il mio wallet posso collegare sia Metamask che un Ledger Trezor quindi qualsiasi wallet e a quel punto clicco strategia griglia. Mi apre la schermata da qua vado a selezionare che cambio e come vediamo qua ci sono veramente tantissime tantissime coin tantissimi cambi. Un'altra cosa interessante spoiler The Gate si sta aprendo cross chain quindi presto all'interno di The Gate tu avrai anche tanti altri token già ci sono c'è tipo Solana Jupiter ce ne sono già diversi c'è anche il WBTC ce ne sono tanti già all'interno della rete di The Gate però man mano ce ne saranno tanti altri e quindi tu potrai da un unico posto fare trading su qualsiasi coin tu voglia cross chain ma semplicemente utilizzando unico account su The Gate qui non ti servirà più avere un account su The Gate un account su quel DEX su un'altra rete tipo Solana quello sull'altro no farei tutto da qui in modo molto semplice veloce e quindi anche comodo torniamo qui siamo su ETH abbiamo detto siamo attualmente a 2624 2635 dollari ora io qua scenario scenario neutro scenario neutro secondo me continuerà a muoversi qua tra i 2002 e i 2008 perfetto allora vado a crearmi la mia grilla metto intervallo minimo qua sopra 2200 intervallo massimo 2800 poi vado a dirgli l'importo a seconda dell'importo una funzionalità molto carina in The Gate a seconda dell'importo lui ti va a dire il numero massimo di griglie che puoi avere per quell'importo lì ovviamente ora io qua ho 10 dollari perché sono tutti già impegnati nell'altra griglia inseriamo per esempio 100 dollari lui mi dirà che posso fare al massimo 4 griglie cosa importante ogni ordine su The Gate va fatto con minimo 25 dollari anche se andassi a limite un tempo quando ho iniziato a utilizzarlo erano 100 dollari per lì per ordine ora sono scesi a 25 pian piano andranno sempre a ottimizzare e scendere di più 25 dollari cosa vuol dire significa che io posso aprire ogni ordine con minimo 25 dollari quindi come vedi qua mi è andato a creare una griglia dinamica in base a quello che è il mio capitale 100 dollari diviso 25 sono 4 ordini che io posso utilizzare per andare a colpire questo range di mercato vendete 2008 2002 mi ha piazzato un ordine a 2002 un ordine me l'ha messo tipo a 2000 cos'è questo 2003 qualcosa un altro a 2006 un altro a 2008 quindi me l'ha reso il più simmetrico come vediamo qua possibile ora se invece gli dicessi che ho per esempio 1000 dollari vediamo che le griglie diventeranno più fitte perché io con 1000 dollari posso colpire un range maggiore con 1000 dollari posso creare 41 griglie allora qui il discorso cambia vedi che diventa molto più fitto e qua sotto mi dirà quantità per griglia acquistata come vedi deve essere maggiore di 25 dollari mi dice quanto sto comprando per ogni griglia mi dice il profitto per ogni griglia in questo caso 0.53 0.67 e l'APY stimato annualizzato 41.8 in base alle griglie cioè se colpisco tutte le varie griglie questo è più o meno l'APY stimato se io qua ci vado a mettere 10 dollari ovviamente non me lo fa fare perché perché sono sotto l'ordine minimo di 25 dollari ora il tipo di griglia abbiamo detto neutrale io posso mettere per esempio 2002 2008 come target abbiamo detto mettiamoci per esempio 500 dollari che è una cifra ragionevole abbiamo 20 griglie con 500 dollari significa un APY di 1.08 1.36 con 20 griglie se io qua ne mettessi di più 30 griglie guarda cosa succede ecco qua mi dice no attenzione non puoi tu hai già il massimo raggiunto il massimo per quella cifra lì sono 20 griglie ecco perché dicevo è importante capire qual è il range perché se il range è tanto ampio allora dobbiamo usare più capitale per avere più griglie se però a me non interessa perché voglio fare due ordini qua dentro allora metto 50 dollari e faccio due ordini ok dipende poi dal dal target di ognuno questa è una griglia relativamente neutrale andando a colpire lo scenario di neutralità cioè lateralizzazione ancora del prezzo ora ipotizziamo che io voglio andare a piazzare invece una griglia che vada a colpirmi uno scenario long potenzialmente rialzista quindi quei 3.600 di target è il prezzo di partenza a ridosso del prezzo attuale quindi che cosa faccio vado appunto a scegliere un prezzo di partenza più o meno facciamo 2.600 quindi a ridosso di questo punto dove ci troviamo noi è un target a rialzo di 3.600 dollari ti do sempre 50 dollari ecco qua che come vedi le nostre griglie adesso sono diverse sono quasi tutte rosse ci sono tutte griglie sell quindi questa è una griglia che va a colpire un potenziale di crescita verso l'alto una griglia appunto con l'obiettivo di vendere a scaglioni man mano che il prezzo scende posso anche renderla un po' più safe andando ad aggiungere una sorta di stop loss se vogliamo quindi qualche piccolo ordinino qua nel caso in cui ci sia un ritracciamento prima della partenza questa è una griglia che va a colpire un rialzo ora invece ipotizziamo il contrario io qua non penso che lateralizzerà non penso che il prezzo salirà ma penso che il prezzo tornerà giù allora mi vado a guardare un target potenziale facciamo finta possa essere questo quindi ho fatto la mia analisi penso che i 2000 dollari siano un target possibile di rimbalzo a ribasso quindi qua andrò a mettere un target minimo di 2000 dollari e un target massimo al prezzo più o meno attuale quindi facciamo 2006 teniamoci un po' più larghi 2007 ed ecco qua che la nostra griglia diventerà una griglia da acquisto quindi qua noi andremo a fare il buy the dip l'obiettivo di questa griglia è comprare man mano che il prezzo scende quindi comprare un ribasso del prezzo poi ovviamente il prezzo non scende sempre come vedi qua è sceso sì ma poi è iniziato anche a muoversi a lateralizzare quindi man mano che scende questi ordini diventeranno tutti sell perché ha acquistato a volte sale e quindi ti va a ottimizzare il classico buy the dip perché tu potresti fare un buy the dip dove compri man mano che il prezzo scende basta un accumulo man mano che il prezzo scende oppure un buy the dip dinamico che va a comprare man mano che il prezzo scende ma anche ti va a fare qualche vendita lungo il percorso in modo da ottimizzare i profitti quindi guadagnare capitale e contemporaneamente abbassarti il prezzo medio queste erano le strategie viste poi nella pratica ora se io volessi lanciare la mia strategia gli posso dire crea strategia a griglia e lui me la va a creare molto semplice quindi veramente veramente facile costruirla ciò che è importante fare è capire dove ci stiamo muovendo perché se non capiamo dove ci stiamo muovendo ovviamente diventa un problema cioè tutto sta nella strategia a monte perfetto ora per analizzare una situazione di mercato quindi per capire dove andare a posizionarci con supporti e resistenze potresti utilizzare uno strumento che utilizzo per verificare anche se qua è relativamente semplice in questo grafico capire dove è il supporto dove sono le resistenze almeno in questo ultimo range in quest'area io vedo che questo qua è un supporto questa qua è una resistenza cioè il prezzo tende a battere di più come vediamo in quest'area questo può essere considerato una lateralizzazione supporto resistenza anche quest'area qua supporto resistenza e così via come posso analizzare e vedere allora tolgo un attimo qua le griglie così mi rende più semplice il tutto ingrandisco un po' potresti utilizzare quello che si chiama il volume profile eccolo qua profile volume ad intervallo fisso e li vai a cliccare da qua per esempio a qua quindi il movimento raggiunto attualmente è quello iniziale e qui come vedi ti mostra questa cosa qua dove ti dà 1 il punto di maggior oscillazione quindi dove c'è la maggior quantità di volumi ingrandiamo così si capisce meglio ecco qua qui in quest'area quindi dove ci sono le barre più lunghe vuol dire che c'è la maggior quantità di volumi di scambi cioè sono proprio le barre le zone come vedi con il massimo della volatilità cioè dove c'è lateralizzazione e sono qua in questo caso e qua queste due aree qua sotto e guarda caso io dove ho lanciato la mia strategia l'ho lanciata tra i 2400 e i 2600 cioè le due aree che mi funzionano da supporto e resistenza all'interno all'interno di queste due aree il mercato oscilla tende a oscillare maggiormente cioè c'è la maggior parte del movimento questa è una cosa che puoi utilizzare uno strumento che puoi utilizzare per andare a riconoscere delle zone però ancora una volta ci tengo a precisarlo il trading automatizzato tramite bot non è la strategia ma è l'esecuzione di una strategia quindi se tu non sei in grado a priori di analizzare il mercato cioè di fare un'analisi di ciò che sta succedendo allora non ti conviene utilizzare un bot perché se non sai fare un'analisi vuol dire che non sai crearti una strategia se non sai crearti una strategia allora non sai poi come intervenire sul mercato e operare manualmente automaticamente tramite bot vai semplicemente a rendere automatica una strategia che però tu dovresti già avere io ti ho mostrato velocemente come andare a individuare delle aree per operare nel breve termine puoi utilizzare il timing cioè fare timing del mercato in che modo non in senso cattivo del termine cioè non cercando di comprare il bottom e vendere il top ma nel senso di andare ad aprire delle strategie quando ti aspetti che ci sia tanta volatilità quando per esempio la Fed annuncia i tassi di interesse piuttosto che comprare aspettare perché ti aspetti che il prezzo salga e poi magari scende ti vai a creare una griglia oppure quando sta per essere annunciato un qualcosa o come ho detto prima un airdrop magari c'è un airdrop tu puoi utilizzare questa strategia il grid per andare o se hai già il token perché ti è già stato airdroppato a venderlo sfruttando il pump come abbiamo visto prima oppure a comprarlo a un certo livello considerando sempre il pump quindi cercare di ridurre il prezzo medio e ottimizzare la salita di nuovo dipende dalla strategia da quello che stai facendo in linea generale per creare una strategia di vendita vado a scegliere un prezzo vicino al prezzo d'ingresso attuale non necessariamente tipo qua 2633 il prezzo attuale non vado a scegliere per forza 2600 lo vado magari a mettere 2500 per tenermi un po' di margine di acquisto e poi tutto il resto chiaramente in salita e lui me la configura in automatico viceversa al contrario idem anziché 2600 magari ci metto 2700 e poi tutto il resto a ribasso neutro invece vado a mettere i due target a ribasso e a rialzo quindi a seconda dei prezzi che seleziono che scelgo lui mi configurerà una griglia di vendita una griglia di acquisto una griglia neutra ora strategie ci sono diverse strategie una è quella di come ti ho detto individuare supporti e resistenze le zone neutre e operare all'interno di queste è sicuramente la strategia più semplice da lanciare perché visivamente facile e anche con l'utilizzo del volume profile è facile andare a capire dove andare a piazzare la strategia ma d'altra parte è anche più remunerativa perché significa fare tanti ordini all'interno di quel range è molto più facile colpire individuare una situazione di lateralizzazione piuttosto che una situazione di pump o di dump del mercato d'altra parte si possono anche utilizzare quelle che si chiamano le griglie infinite le griglie infinite sono delle griglie che vanno a colpire dei range di prezzo molto molto grossi ora qui devo fare un disclaimer tanti che cosa fanno prendono creano una griglia grossa molto grossa anche tanto fitta e lasciano lì perché cercano di colpire il più possibile tutto il prezzo perché vogliono un qualcosa che duri lì che vada avanti magari negli anni allora tendenzialmente si può fare questa cosa sì si può fare ma è molto più semplice andare a colpire adattare di volta in volta piuttosto che creare una cosa del genere l'ho fatto in passato l'ho testata ti posso dire per esperienza che delle griglie più fitte tendono a performare meglio se le si posiziona chiaramente con un minimo di conoscenza del mercato di strategia rispetto a una griglia ampia cosa potrebbe essere una griglia ampia beh una griglia per esempio ora qua non abbiamo tutto lo storico di ethereum però ipotizziamo una griglia che parta dai 1800 da qua e che vada a colpire il suo top massimo di 4k quindi una griglia che va dai 1800 ai 4k che va a colpirmi tutto l'intero grafico quindi mettiamo 1800 il problema è che chiaramente bisogna avere prima un grosso capitale da utilizzare adesso vedremo cosa ci dirà se la si vuole fare fitta ipotizziamo di mettere 1000 dollari significa riuscire a mettere su ecco qua un 41 ordini più o meno un profitto per griglia di un 1.36 2.98% che ci sta ci sta perché significa avere gli ordini piazzati per esempio questo qui è piazzato a 2661 questo è piazzato a 2714 questo è piazzato a 2762 quindi più o meno ogni 40 50 60 dollari abbiamo un ordine piazzato quindi questo già ci sta bene con 1000 dollari si può si può fare chiaramente se andassimo su bitcoin sarebbero ancora più radi gli ordini quindi è molto più complesso ecco che qua si potrebbe andare a creare questo tipo di griglia c'è appunto una griglia infinita se vogliamo ovvio che siamo più tranquilli perché comunque andiamo a colpire un range di prezzo più ampio quindi non dobbiamo stare necessariamente lì andare a sistemare e modificare questa può essere una griglia che lasci magari un anno che gira e che va a fare profitti oppure io posso intensificare quindi concentrare i 1000 ordini cioè i 1000 dollari in meno ordini più grossi all'interno di un range quindi chiaramente qua farei un profitto maggiore a fronte di un rischio maggiore cioè mi rompe a ribasso e devo stare lì magari ad aspettare che poi il prezzo torni su per poter rivendere però questo era giusto per darti un'idea delle possibili soluzioni che ci sono abbiamo detto una griglia neutrale colpendo le lateralizzazioni di mercato una griglia long che potremmo far partire da adesso fino a 4k o se ci aspettiamo un prezzo più alto 10k per dire una griglia d'acquisto una griglia infinity che colpisca un range di prezzo molto ampio e una griglia infinity di questo tipo si può lanciare per esempio in bear market quindi quando abbiamo raggiunto il nostro bottom per esempio qua il bottom ha 1800 dollari io posso andare in quest'area in questa fase in questo momento a crearne una griglia infinita con un ribasso ipotizziamo a 1500 dollari perché credo che sotto questa cifra di TH non possa scendere e poi a rialzo il target che mi do esempio 4k se lo dovessi fare adesso potrei fare idem stessa cosa target basso 1800 però a rialzo andrei a colpire un 6k per esempio quindi che ne so andrei a fare in modo di arrivare lassù rispetto solo il massimo questo se non sia magari un grosso storico del token d'altro canto una strategia magari più semplice più probabile che non sta a puntare secondo me arriverà 6k come qui secondo me lì ma è semplicemente cercare di ricolpire target che aveva già colpito quindi il vecchio all time high quindi è arrivato il bear market il prezzo è sceso ci troviamo in quest'area qua da 2006 più o meno 2005 2004 quindi in quest'area fino a 4000 c'è quasi un per 2 fantastico allora io mi vado a creare una griglia che vado a colpirvi questo per 2 e se il prezzo andasse più in alto no problem io magari posso parallelamente comprare spot degli eth in quest'area quindi compro un eth 2600 2 th 2600 poi parallelamente creo la griglia per fare profitto qua in mezzo quei profitti posso volendo prelevarli utilizzarli per ricomprare th posso poi decidere divertirmi come meglio credo ma in questo caso che obiettivo avrò avrò quello di andare a trarre il massimo del profitto se il prezzo tornasse a colpirmi l'all time high dopodiché tutta l'eccedenza io il mio spot in holding e vado a guadagnare senza contare che utilizzare questa griglia parallelamente ad un holding uno spot quindi degli acquisti che abbiamo fatto di quel token ci permette di far che cosa ci permette anche di ottimizzare se il prezzo dovesse scendere ci permette di abbiamo detto fare un buy the dip acquistare a livelli più bassi ma contemporaneamente anche andare a coprire un pochino le perdite perché ipotizzio compro un eth qua a 2500 poi eth scende a 2000 io sono in perdita di 500 dollari ma non scende dritto ma scende operando facendo così quindi magari mi è andato a fare durante questo calo 100 ordini da un 1% un che ne so da 2 dollari guadagnato per ogni ordine quindi mi ha guadagnato 200 dollari quindi grazie a questa griglia io ho il mio holding che non è più in perdita di 500 dollari ma in perdita di 300 dollari ci sono andato ad assottigliare la perdita un altro utilizzo che si può fare delle grid quindi sono ottimi strumenti da abbinare alla nostra operatività come dico sempre io ho un portafoglio holding e un portafoglio speculativo l'obiettivo del portafoglio speculativo è guadagnare il massimo per permettermi di accumulare sempre più cripto ma contemporaneamente proteggermi nelle situazioni di calo grazie a questa operatività qua ti vado a mostrare l'ultima strategia interessante che è la strategia di accumulo bitcoin cioè io posso usare le griglie anche attenzione per accumulare bitcoin come lanciando una griglia nel cambio eth btc eccola qua eth vbtc io qua posso creare una griglia che vada a utilizzare i miei bitcoin per accumulare eth e viceversa io posso per esempio lavorare sul mio eth btc con un obiettivo puntare btc per accumulare btc questo qui è il grafico di eth contro appunto bitcoin partiamo da qua ultimamente è stato in calo quindi cosa succede in questa fase io ho i miei eth se io lanciassi una griglia qua cioè adesso io decidessi di piazzare qui un ordine dicendo voglio accumulare dei bitcoin credo si stiamo avvicinando magari dal season e tutto credo che eth possa sovraperformare bitcoin allora se eth sovraperforma bitcoin vuol dire che qua inizia a salire e se inizia a salire io vado man mano che chiudo gli ordini nella mia griglia a incassare in btc quando il prezzo di questo grafico scende io utilizzo i bitcoin per accumulare eth quando il prezzo sale io vendo eth per accumulare più bitcoin l'idea di questa di questa griglia piazzata su questo tipo di cambio eth bitcoin è quello di sfruttare le alt season per andare ad accumulare più bitcoin possibili ad esempio in questa fase che è molto 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 abbassato il prezzo potrei creare una griglia con ingresso ipotizziamo 0034 e il target a rialzo lo si potrebbe piazzare tipo qui quindi intorno allo 05 ecco qua gli vado a scegliere quanto mettere in termini di bitcoin ipotizziamo di mettere un bitcoin e lui adesso mi crea la mia griglia ecco qua con tutti questi ordini e più o meno mi tiene uno 0203 ora se ovviamente io andrò a colpire un target minore quindi voglio che ne so colpire questo qua più prudenziale che quindi è fai 039 quindi così e qua ci vado a mettere un po' meno qua per esempio andassi a mettere di nuovo uno 0.1 btc e vado a generare le mie griglie tipo 10 lui mi andrà poi a costruire le mie griglie vabbè qua c'è saldo insufficiente perché non ho dei bitcoin mettiamo uno vediamo se me le crea ecco qua è molto molto tiradata quindi io non la terrei così magari ci metti 0.01 btc e la fai correre con 20 griglie 30 griglie poi dipende dal range da quello che vuoi colpire però questo è per avere un'idea di come potresti strutturare la cosa utilizzando magari trendline se ti aspetti questo calo quindi come vedi mi aspetto quel colpo lì a ribasso ci siamo quindi da qua io aspetto che si possa tornare su quel livello e allora piazzo entro qui e chiudo lì viceversa se magari ci troviamo già qui mi aspetto che non ci sia una rottura ma che possa rimbalzare allora di nuovo qua mi vado a piazzare più che una griglia in buy dip quindi in acquisto quindi molto 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 dinamico dipende come voglio muovermi dipende tutto sempre da come voglio muovermi quindi grid sono uno strumento importante da utilizzare nella propria operatività è veramente fondamentale comprendere come funzionano prima di tutto comprendere anche come funziona il trading come funzionano i mercati e poi hai tutti i tasselli da unire per poter fare veramente profitti nel mondo del cripto inoltre c'è una promo assurda infatti The Gate offrirà ogni giorno l'80% dei profitti generati in grid trading cosa significa? ipotizza di fare oggi 100 dollari di profitto bene The Gate ti regalerà 80 dollari che potrai utilizzare per reinvestire in altre griglie potrai prelevare potrai usare per acquistare coin potrai fare assolutamente quello che vuoi sono tuoi e questo ogni singolo giorno che farai profitto quindi se oggi prenderai 100 dollari di profitto avrai in più 80 dollari che ti darà The Gate se domani farai altri 100 dollari di profitto The Gate ti darà altri 80 dollari se dopo domani farai 10 dollari di profitto The Gate ti darà 8 dollari se farai 1000 dollari di profitto The Gate ti darà 800 quindi man mano che farai profitti ogni giorno The Gate ti riconoscerà l'80% ti lascio qua sotto i dettagli della promo e anche il link per registrarti ovviamente a The Gate con questo corso completo è durato un pochino però abbiamo affrontato tutti i temi dalla A alla Z siamo partiti da zero fino alla creazione dei tuoi bot in base ai tuoi obiettivi ora però è tutto ciò che ti serve per lanciare i tuoi grid bot e andare là fuori sul mercato e fare profitti grazie